Promuovere l'agro-biodeversità del territorio, recuperando varietà tradizionali di frumento e segale per la produzione di una farina locale, ideale per la preparazione dei rundit, le speciali sottile sfoglie ottenute dalla cottura su un'apposita lasta di ferro a forma arrotondata di un impasto di acqua e farina. Al cinema comunale di Malesco è stato presentato il progetto Dal buon grano all'eccellenza dei rundit, organizzato dall'Accademia dei rundit e con il quale si aprono nuovi orizzonti grazie a coloro che credono fortemente nelle tradizioni locali, come la grande famiglia dell'Accademia dei rundit, nata a Malesco nel 2016, con lo scopo di tutelare questo particolare prodotto locale. Attualmente l'associazione conta circa 40 soci, dai 7 agli 80 anni di età, che condividono l'amore per il proprio territorio e credono nella tutela dei saperi tradizionali, come ha tenuto a dividenziare dall'associazione Lorenza Bergamaschi. A coordinare gli interventi è stata Laura Minacci, responsabile dell'ecomuseo della Pietrollare e degli Scalperini di Malesco, ente organizzatore del pomeriggio, con la parola che è poi passata al professor Roberto Pilu e alla dottoressa Martina Ghidoli dell'Università degli Studi di Milano che nel dettaglio hanno presentato il progetto. Un primo passo concreto è rappresentato dalla realizzazione di un campo demostrativo nei pressi della Chiesa Parrocchiale e con una dimostrazione pratica delle operazioni di semina.